Benvenuti ai nostri telespettatori. Oggi incontriamo Monsignor Gaetano Di Piero, che è vescovo in Madagascar, ma in realtà prima che vescovo è un padre deoniano ed è originario anche della Puglia. Oggi vorrei fargli raccontare un po' la sua vita, la sua vocazione e poi ci racconta quello che fa nella terra di missione. Di dove sei originario tu? Allora sono di Ortanova a Foggia. A dieci anni ho lasciato Ortanova per essere apostolino qui nella casa di Andria, opera di Sant'Antonio. Sono stato tre anni, poi sono stato nelle Marche a Pagliare per due anni, poi cinque anni a Foligno, quattro anni a Roma e da 39 anni, quasi 40, in Madagascar. Appena sei diventato prete sei scappato o partito per la missione in Madagascar. Come mai questa scelta? Allora prima di tutto mi ha ordinato il sacerdote Beato Paolo VI, il 29 giugno del 75, eravamo 360 giovani e subito dopo, dopo due mesi e mezzo, il 4 ottobre, giorno di San Francesco, sono arrivato in Madagascar. Quindi in Madagascar è stato il mio primo amore. Come mai hai scelto questa cosa? Tra l'altro mi sa che era proprio all'origine della storia di questa regione adesso, di questa missione. Pensavamo, ed era già stato stabilito, che saremmo andati in Mozambico. Alcuni dei nostri erano andati in Portogallo a prepararsi, a imparare il portoghese. Poi c'è stata la guerra civile in Mozambico e allora un vescovo trinitario ci propose di aprire una missione con dei laici, laici terzo mondo, in Madagascar. E il 4 ottobre arriviamo in Madagascar e sono del primo gruppo, dopo padre Nicola Giampietro, che andò un po' prima per preparare il posto per noi. Poi lui si è ammalato, è rientrato in Italia e noi siamo arrivati in Madagascar. Eravamo in tre, fratello Buti, padre Peppino Cuomo ed io. Dell'Italia Meridionale, la provincia italiana meridionale, si è accertato al Sacro Cuore, ma arrivarono poi i portoghese o eravate insieme? No, allora la provincia nostra italiana meridionale aveva intenzione di aprire una missione proprio per noi. Perché noi avevamo già dei missionari del sud, tra i quali padre Lo Sappio, poi altri padri, che stavano appunto, che lavoravano già in Africa. Però si voleva aprire una missione prettamente della provincia. Allora si era pensato a Mozambico e siamo arrivati in Madagascar. E come primo gruppo abbiamo dovuto un po' mettere le fondamenta, le basi. Però questa nostra andata lì fu concordata con i laici Terzo Mondo. Che era un'associazione, un hollus, diciamo, fondata da padre Pala, a Napoli. Ma come mai tu hai deciso subito di partire per la missione? Eri prete giovane, no? Come mai questa cosa? Allora, da ragazzo, quando sono arrivato ad Andria, quindi ero ancora in prima media, sentivo parlare dagli educatori che avevo. Era padre Leone, che era stato missionario in Argentina, e padre Mioli, che era stato missionario in Africa. E quando loro ci parlavano, ci trasmettevano tutta quella gioia di essere andati in Argentina, in Camerun. E allora dentro di me sorse questo desiderio, più che di diventare prete, ma di andare come missionario, diciamo. Poi è stata la visione di un film, Molokai, di padre Damiano, che mi disse, eh, voglio essere anch'io un sacerdote come quello. Poi c'è stato, mentre andavo avanti negli studi, mi sono accorto, proprio badando agli ammalati, perché facevo il volontariato a Cottolengo, mi sono accorto che questi ammalati, questi avevano bisogno di un papà. E allora lì ho deciso, missionario, quindi già pensavo al Congo, quindi al Congo era il mio desiderio da piccolo. Poi mi fu proposto in Mozambico, io dissi, va bene, devo ancora terminare gli studi, poi si cambiò il programma. L'uomo propone e Dio dispone, no? E avevo appunto questa intenzione, missionario, mi dava un po' di questa gioia perché si va in un altro mondo, si parla, e perché erano molto entusiasti questi missionari che ci parlavano delle missioni, tra i quali padre Longo, che poi è stato martire in Congo, mentre ero al noviziato nel 64, lui fu ucciso nel Congo. E per me fu ancora un'altra riaffermazione nel mio cuore, devo essere missionario. Quindi sei arrivato in Madagascar insieme agli altri due, no? E come avete dovuto organizzarla la missione, no? Che cosa avete fatto? Prima di tutto non sapevamo niente, non sapevamo la lingua. La prima esperienza, io ho appena ordinato sacerdote, e beh, siamo arrivati là, e gli altri due in seguito hanno pure fatto un po' di scuola, sono andati a scuola per imparare la lingua malgascia. Con me invece mi sono messo con i bambini, quindi parlando con i bambini apprendevo il malgascio. Tra l'altro, diciamo, è una lingua abbastanza complicata, no? Perché si dice che si parla il francese, ma è la lingua ufficiale, ma la gente non la sa, no? In pratica nessuno parla in francese, eccetto se vai in qualche ufficio. Con la gente si parla sempre il malgascio. E quindi, perché ho scelto i bambini? Perché i bambini, prima di tutto, ti correggono, se tu sbagli, e poi ho una pronuncia molto bella, quindi molto chiara. E allora, per me i primi insegnanti sono stati i bambini, e anche quelli che mi hanno insegnato a fare il catechismo, cioè anche la missione, e beh, la gente semplice, e poi io sono sempre vissuto in foresta, in pratica. Tuttora, due terzi della mia diocesi è foresta. Allora, sei arrivato, hai incominciato a imparare la lingua con i bambini, è preso dai bambini, e diciamo, che cosa avete fatto? Cioè, qual è stata la prima missione? Cioè, l'hai vista svilupparsi questa missione di Madagascar? Che cosa avete fatto? Qual è stata la prima opera che avete impiantato? Allora, questa missione, dove siamo andati, Imeriman Rusu, era già tenuta dai padri trinitari. Quindi non è che noi abbiamo, diciamo, iniziato in luogo a zero. C'erano già stati dei missionari prima di noi. Loro poi si sono spostati in altre zone, e noi siamo rimasti là. E allora, la prima cosa era come contattare con la gente, come parlare, perché prima di fare progetti, devi vedere la realtà. Che cos'è? Una cittadina oppure una zona di spolazione? Un piccolo paese di duemila abitanti, un piccolo villaggio sul lago Alaoj, il più grande lago del Madagascar. Stavamo proprio su questa collina, e con un centro, Imeriman Rusu, e poi avevamo una ventina di comunità cristiane, cioè di cappelle, per dire. E lì, il nostro lavoro cos'era? Andare a trovare queste comunità, e in pratica facevi la semplice evangelizzazione, quindi si parlava di Dio, perché la maggior parte erano pagani. Quindi anche se c'erano dei missionari prima, ma c'era ancora molto da fare. Cappelle sparsa su un territorio molto vasto, immagino. Sì, era a 3.300 chilometri quadrati. Noi tre sacerdoti, cioè due sacerdoti e il fratello. È chiaro che il fratello si occupava dell'aspetto materiale, quindi costruzioni, eccetera. e poi abbiamo messo su con dei laici, con questi laici di cui ho parlato prima, ho messo su un atelier scolaire, sarebbe una falegnameria, per insegnare ai ragazzi questi lavori di falegnameria, perché poteva servire nella loro vita. Al momento che c'erano gli alberi, eccetera, abbiamo molti alberi, quindi un po' la foresta, e poi con le ragazze insegnamento di taglia e cuscito. Una signora malgasce insegnava a queste ragazze taglia e cuscite. C'erano anche le volontarie italiane, le prime, che sono arrivate lì, che facevano questa attività. Quindi era una collaborazione tra laici, questi laici volontari, e noi missionari sacerdoti e fratelli. E dopo Imero e Meandruso che cosa si è aperto? Cioè sono arrivati degli altri padri? Dall'Italia meridionale e anche a questo punto da Portogallo, giusto? Ecco, allora, noi siamo arrivati lì in tre, poi è rientrato padre Nicola ed eravamo già in quattro. C'è stata un'altra diocesi che aveva bisogno di sacerdoti, erano solo otto i sacerdoti nella diocesi, e hanno chiesto un aiuto. e allora il Vescovo, questo Vescovo Trinitario, ci disse, beh, se volete, qualcuno può andare ad aiutare a 800 chilometri da dove eravamo noi. E allora questa nostra attività si è, diciamo, in Meandruso, la zona nord e la zona sud del Madagascar. e quindi era solo evangelizzazione, non avevamo intenzione di fare dei piccoli seminari, no, era solo dare una mano alla chiesa locale del Madagascar. Quindi con l'attività sempre dei laici, eravamo sempre in unione con i laici. E lavorando, lì il Vescovo di quell'altra zona, dopo i tre anni che noi abbiamo fatto lì, ha chiesto che la nostra congregazione restasse nella sua diocesi. E in quel periodo ci fu un capitolo generale in cui questo Vescovo chiese al capitolo generale di avere altri sacerdoti di ogni anno. Ed ecco allora che nel 1981, sei anni dopo di noi, sono arrivati i padri portoghesi. E di questi tre primi portoghesi, uno di questi tre è diventato Vescovo, Monsignor Alfredo Caire. Quindi inizia la collaborazione con i portoghesi, immagino non facilissima, perché non è semplice, culture anche un po' diverse. E a un certo punto si decide anche di incominciare un'opera di formazione, diciamo anche per gli scolastici, per avere dei religiosi. Ci fu anche un appello della conferenza episcopale Malgascia che chiese a tutti i religiosi di aprire delle case di formazione. Cioè che ogni congregazione avesse i suoi i suoi scolastici. E allora, d'accordo con i portoghesi, aprimo una casa alla capitale, Tannanrivi. Poi dalla capitale siamo spostati Anzi Rabbe, Fian Aransua, tutti i centri che devono essere, sono stati, e ci sono tuttora, piccoli seminari, diciamo. Dal piccolo seminario, quindi si iniziava dal liceo fino alla teologia. E adesso noi, appunto, abbiamo a Tannanrivi la teologia, il filosofato, e al Anzi Rabbe, il noviziato, a Fian Aransua il piccolo seminario, e così siamo, ci siamo diretti su questo nuovo campo della formazione. Per cui ha incominciato a venire fuori del clero, diciamo indigeno, tra virgolette, di padri, di confratelli che provengono direttamente da Madagascarra. Poi, vabbè, adesso tu non fai parte della provincia o della regione, ma più o meno com'è la situazione? Diciamo, sono, quanti sono i malgasci? Allora, c'è già una nuova realtà, perché inizialmente c'era un gruppo che dipendeva dalla provincia italiana e un altro gruppo che dipendeva dalla provincia portoghese. Ma non si poteva andare avanti così, per creare un'unità abbiamo creato questa regione del Madagascar. in questa regione del Madagascar sono rimasti quattro italiani, due, tre portoghesi e 45 malgasci. Dei sacerdoti malgasci abbiamo quasi una ventina e quindi oramai è tutto in mano a loro, anche se regionale è padre Peppino Cuomo che è ancora lì come regionale, ma si pensa che da un momento all'altro sarà tutto in mano a loro. Tra l'altro proprio lui si è occupato non solo della formazione diciamo del clero ma anche della formazione laicale visto che ha impiantato anche un'università adesso non ho capito se sono due o tre si sta allargando. Allora stando lì sul posto ci si è accorti che se i giovani vanno fuori dal Madagascar diciamo c'è la fuga dei cervelli invece abbiamo detto no cerchiamo di vedere prima di tutto come formare gli universitari allora abbiamo iniziato nella casa di Tananarive abbiamo aperto questa casa agli universitari cioè gli universitari potevano soffrire della nostra casa per studiare per giocare eccetera quindi questo è stato l'inizio poi padre Peppino mettendoci d'accordo con dei professori di università dice beh perché non cerchiamo di fare una nostra università e l'abbiamo fatto lì a Danzira B e già da 11 anni che va avanti questa università e ogni anno ci sono un centinaio di giovani che escono fuori di col master già diplomati non solo con la facilità che poi hanno di trovare il lavoro lì in Madagascar perché all'ultimo anno fanno degli stage cioè vengono queste industrie banche eccetera che prendono gli alunni e gli fanno fare sei mesi di formazione diciamo e loro poi prendono il diploma laurea ecco e poi hanno quasi il 90% e più trovano il lavoro quindi un'opera diciamo di formazione umana e anche di aiuto all'inserimento nel mondo del lavoro e quindi nel mondo della produttività ma nel tuo percorso personale quindi ritorniamo alla tua storia personale tu parlavi prima dicevi ho imparato il malgascio in fondo dai bambini ma mi risulta che tu l'hai imparato bene tant'è che mi sa che sei stato uno dei primi a tradurre dei testi in malgascio perché non ci sono molti volumi cristiani in malgascio come ho detto i ragazzi ti insegnano e allora ascoltando i ragazzi come anche i pagani diciamo cioè quelli che seguono la religione tradizionale ci si accorgeva che è molto distante l'insegnamento dalla loro cultura e dal loro modo di vivere allora ascoltando molto loro mi sono accorto che bisognava forse un po' aggiustare un po' la catechesi prima quando ero ancora sacerdote lavoravo lì al nord in Merimandrusu e cercavamo di fare una catechesi molto semplice quindi con padre Nicola Giampietro con padre Peppino facevamo una catechesi un po' anche spinti dal padre fondatore un po' questa pastorale sociale quindi si insegnava chi era Gesù ma è Gesù che sta accanto al lavoratore al chi soffre eccetera quindi la nostra pastorale aveva un po' questo aspetto poi quando mi hanno fatto vescovo mi hanno dato tre commissioni episcopali di cui mi occupo sono il presidente ma prima non avevi non avevi già tradotto qualcosa sì prima avevo fatto sia dei canti io facevo la catechesi con dei canti inventavo dei canti sia per i giovani per i ragazzi per la gente e con il canto perché vedevo che ai malgasci piaceva molto il canto e allora col canto loro apprendono subito e vivono cioè lo sentono lo sentono questo che apprendono e allora iniziavo con questi piccoli diciamo piccoli mezzi mi occupavo un po' di questi piccoli mezzi e questi piccoli mezzi piano piano avendo più possibilità perché poi sono stato vicario generale della diocese di Ambatundrasaca e quindi c'avevo Monsignor Antonio Scopelliti trinitario che mi dava molto molto come si dice spago per poter approfondire sempre di più perché qui avevo studiato l'antropologia la gregoriana ho studiato l'antropologia etnologia e allora la mia preoccupazione era appunto di vedere cosa fare per far sì che il Vangelo venisse recepito da loro e vissuto quindi non è un Vangelo diciamo imposto ma era piuttosto un Vangelo che prospettava alla gente questa nuova visione e la gente entra ecco allora il mio lavoro è stato un po' antropologico perché avevo preparato pure la tesi per la gregoriana poi ho perso tutto il materiale perché mi avevano rubato tutto il materiale che avevo già preparato e allora non ho potuto fare la tesi sono rimasto così ma ho ritrovato un po' tutto il lavoro che avevo fatto e con questo lavoro che era più che altro un lavoro dello studio di chi è il Malgascio antropologia Malgascia allora partendo dall'antropologia Malgascia vedere come far combinare il Vangelo con l'antropologia Malgascia poi quando sono diventato vescova bene lì c'era bisogno ancora nell'aspetto dei catechesi c'era ancora bisogno di tradurre il catechismo della chiesa cattolica intero completo e lì con dei collaboratori abbiamo fatto questo lavoro loro facevano la prima traduzione io poi correggevo dal latino dal francese dall'italiano per vedere il vero senso del catechismo e correggevo poi in seguito a questo catechismo della chiesa cattolica abbiamo fatto diversi catechismi anche qui alla tipografia qui ad Andrea abbiamo fatto quattro catechismi che era uno per l'insegnante e gli altri per quelli che si preparavano alla comunione quelli che si preparavano alla cresima e adesso abbiamo preparato quello per i catechumeni adulti e stiamo sta in cantiere un piccolo catechismo per la famiglia siccome adesso si parla di famiglia e già l'abbiamo impostato abbiamo impostato in questo modo cosa dicono gli antenati non so sulla famiglia cosa dicono gli antenati oppure papà ecco cosa dicono gli antenati sul papà cosa dice la civiltà moderna la globalizzazione su questi concetti e poi cosa dice Gesù e io vi dico ecco sarà diviso in po' quindi c'è un discorso antropologico un discorso della globalizzazione moderno e la risposta di Gesù a questi interrogativi e lo facciamo esclusivamente sulla famiglia con me ci sono dei collaboratori malgasci laici come anche sacerdoti e abbiamo fatto anche il breviario in malgascio proprio il breviario completo adesso stiamo abbiamo già tradotto tutta la Bibbia di Gerusalemme in malgascio sto attendendo ancora qualche piccolo ritocco che stiamo facendo ecco vedi che insomma la lingua appunto ti è servita per l'imparata bene in modo tale che adesso si può parlare si no vabbè torna utile anche perché se non ci sono anche gli strumenti per capire la parola poi diventa complicato tu quanti anni sei stato vicario generale lì sotto Monsignor Scopelliti dal 96 al 2001 cinque anni nel 2001 il Papa Giovanni Paolo II mi ha nominato vescovo ausiliare di Ambatun Dasaka quindi sei rimasto insieme a lui ma diciamo che significa poi fare vicario generale in una diocesi tipo quella di Ambatun Dasaka in Madagascar cioè che fa il vicario generale allora il vicario generale in pratica beh prima di tutto ci si parlava insieme ci si consigliava cioè il vescovo mi chiedeva i miei consigli e gli dava i miei consigli poi c'è da fare le visite nelle comunità perché la nostra diocesi era a 600 km di lunghezza e arrivare da un punto all'altro non ci arrivava il vescovo allora mi mandava come vicario generale poi c'era tutto organizzare tutti i segretariati per esempio il segretariato per la famiglia quindi la commissione per la famiglia commissione per la sanità e quello che ho cercato di fare che cerco tuttora di fare di la sinergia cioè mettere un po' insieme tutte queste commissioni farle lavorare insieme è cambiato qualcosa dal momento in cui si è diventato vescovo sempre rimanendo in quella diocesi oppure più o meno è rimasto tutto come allora prima era un vescovo che aiutava adesso sono un vescovo che deve essere aiutato no vabbè adesso perché si è diventato vescovo di un altro diocese residenziale no ma dico passando da da vicario generale a vescovo ausiliare è cambiato qualcosa sostanzialmente no cioè è continuato il lavoro che facevo perché nello stesso tempo ero vescovo ausiliare e ancora vicario generale quindi il lavoro che già facevo prima ho continuato sempre quanti anni sei rimasto poi cinque anni vescovo ausiliare lì poi il 13 maggio del 2006 Papa Benedetto XVI ha eretto questa nuova diocesi che sarebbe la diocesi di prima divisa in due quindi sei rimasto nella zona ma diciamo è diventato un'altra dioce è stata stocchiata esatto quindi questo è stato un vantaggio perché già conoscevo un po' la zona come si chiama la diocesi adesso? Muramanga Muramanga e in questa diocesi qui è il lavoro che adesso è nuovo sono arrivate le multinazionali le multinazionali dovrebbero in principio cercare di aiutare di far progredire e invece quello che avviene le multinazionali rubano lo dico tra virgolette le ricchezze di là e lasciano più poveri quelli che sono lì sul posto quindi hai una diocesi diciamo che si impoverisce in un qualche modo esatto che si impoverisce e con tanti problemi perché non è solo diciamo problemi perché sono tutti diventano tutti problemi pastorali perché quando la persona non è che può venire a pregare perché non c'è il lavoro non c'è poi c'è insegurità poi c'è molta corruzione e allora c'è molta difficoltà e poi fare da da piattaforma di dialogo tra le multinazionali e la gente e lì c'è un po' di difficoltà ecco un po' di difficoltà però cerchiamo sempre che non si creino dei conflitti perché tante volte vogliono si vogliono creare dei conflitti e allora stare tra i due cercando di far regnare la pace però è chiaro è un'occasione per insegnare la dottrina sociale della chiesa ma non solo ai cattolici ma alla società civile eccetera come è formato cioè la diocesi è comunque territorialmente vasta no? anche se è la metà della precedente più o meno no? 12.000 chilometri quadrati eh quindi è enorme e quanti diciamo cattolici hai più o meno? gli abitanti sono 500.000 cattolici 200.000 quindi quasi la metà della popolazione è cattolica e questi cattolici frequentano abbastanza le diciamo le funzioni le catechesi questi cattolici frequentano c'è una buona frequenza però è l'affare che la fede piano piano deve penetrare nella loro vita tante volte c'è una dicotomia tra la fede e la vita concreta e allora c'è bisogno di approfondire ecco perché tutti questi catechismi che servono per fare approfondire di più la fede dai malgaci perché una funzione religiosa è sempre una festa ecco allora che tu vedi molte persone quindi c'è molta frequenza però c'è il pericolo che sia superficiale e quindi il nostro lavoro è da questa superficialità arrivare a mettere delle fondamenta sul Vangelo sulla dottrina della Chiesa eccetera quanti preti hai in diocesi? allora ho in tutto 21 sacerdoti di cui degli italiani siamo in cinque ma sono gli antichi missionari uno ha 87 anni un altro 86 anni il mio vicario generale 75 anni poi padre Nicola Giampietro 71 e poi ci sono io ho chiesto un aiuto a Reggio Calabria di avere un segretario perché per sette anni io non avevo nessun segretario quindi cercavo di mandare avanti questa diocesi e siccome sono il primo vescovo e bisognava mettere un po' qualche punto allora ho chiesto alla diocesi di Reggio Calabria di prestarmi un sacerdote ma un sacerdote che era già lì da tanti anni che era vicario generale di Ambatun Rasac dell'altra diocesi e sta con me è lui che mi sta aiutando in tutto questo lavoro e non hai vocazioni in diocesi non allora in liceo in liceo sono 16 giovani in liceo in filosofia ce n'ho due poi in teologia ce n'ho uno ho già tre sacerdoti che ho ordinato io nella diocesi di Muramanga quindi due adesso sono qui a Reggio Calabria come fideidonum perché dico beh poi ci aiutate ma anche noi possiamo un po' darvi una mano e quindi due sacerdoti malgasci a Reggio Calabria abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione vedi che poi chiacchierando il tempo passa ci dici una una speranza che hai per la tua diocesi cioè che cosa ti aspetteresti di aver di lasciare diciamo nel periodo in cui tu sei stato vescovo di questa diocese sei iniziato questa diocese una sola cosa mi propongo l'unità l'unità cioè veramente unione di cuore tra il vescovo sacerdoti religiosi e laici e siccome si è in pochi si è diciamo avvantaggiati perché si è in pochi quindi si riesce più a fare famiglia le difficoltà è chiaro che il numero dei sacerdoti non è sufficiente c'è un sacerdote che ho appena ordinato due anni fa che si occupa di 110 comunità cristiane in foresta dove non si può arrivare se non a piedi e spesso ogni mese quasi vado lì e faccio il vice parroco perché lui è il parroco io lo faccio lo aiuto un po' devi fare molti chilometri tante volte 90 chilometri 100 chilometri a piedi per arrivare in questi piccoli villaggi di foresta e quindi la nostra forza dovrebbe essere questa unità perché poi come dice Gesù dove ci sono due o tre lì ci sta in mezzo pure lui e quindi noi stiamo cercando le difficoltà ci sono quello è normale però il mio quello che io mi propongo è cercare di unirci ecco stare un po' uniti allora ecco perché io vado spesso fuori cioè vado a trovare spesso i sacerdoti per restare con loro una settimana 15 giorni tante volte quelli che sono al centro si lamentano la gente che sta lì alla Muramang e monsignore ma non ti vediamo mai stai sempre fuori ho detto il papa non mi ha fatto vescovo di Muramang ma della diocesi di Muramang e quindi anche gli altri hanno diritto a vedere il loro vescovo c'ho 250 comunità e già ne ho visitato 220 me ne mancano altre 30 piccole comunità perché c'è la difficoltà dei di arrivare in questi villaggi e poi c'è la difficoltà che un solo sacerdote allora devo cercare di andare nei diversi perché non me la sento di lasciare un sacerdote solo perché è veramente pesante noi ti auguriamo di poter continuare il tuo ministero nel miglior modo possibile no? lavorando per questa unità e stando vicino ai parroci alla gente no? è bella anche questa quest'idea della chiesa cioè del pastore che sta vicino perché forse in occidente un po' questa cosa si è persa e speriamo che con questo papa le cose un po' comincino a cambiare ed una cosa cioè c'è anche un'unità tra sacerdoti religiosi e laici per un progetto che noi già stiamo facendo da cinque anni che si chiama progetto trasparenza taratra in malgascio trasparenza e avevamo portato avanti per quattro anni poi avevamo terminato una specie di contratto con l'organismo che ci aiutava ho presentato alla conferenza episcopale italiana subito l'hanno accettata perché hanno detto è un progetto di formazione è un progetto che veramente aiuta la gente a uscire loro stessi dalla loro povertà avere coraggio e a tirarsi su abbiamo fatto ultimamente un libro Sclavage e Liberazione Madagascar Schiavitù e Liberazione in Madagascar in francese con 15 accademici cioè professori di università malgasci perché c'era questo c'è questo fenomeno della schiavitù la schiavitù antica di cui sentono ancora le conseguenze schiavitù moderna con questi multinazionali una schiavitù moderna un nuovo colonialismo e allora abbiamo fatto tutto uno studio è uscito questo libro in Francia e sta anche adesso in Madagascar e forse lo tradurremo anche in malgascio in modo che sia più accessibile alla gente ed appunto ci proponiamo di arrivare alla liberazione l'ultimo capitolo di questo libro si intitola Gesù maestro e schiavo quindi è Gesù che deve liberare da questa schiavitù appunto ti auguriamo che tu possa continuare su questa linea anche perché appunto è la linea dell'affrancamento della realtà umana alla quale siamo chiamati tutti a collaborare e quindi ti auguriamo appunto di continuare e ti ringraziamo di questa testimonianza che ci ha dato grazie 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 a tutti.